Questo è un messaggio ET Alert. Dopo l'avvio ufficiale del servizio di messaggistica della protezione civile ET Alert su tutto il territorio nazionale, c'è stato oggi un nuovo invio di sms sui dispositivi dei residenti e di quanti si trovavano a passare nei comuni di Massignano, Ascoli Piceno e Campofilone, fermo per l'esercitazione che simulava il collasso della diga Rio Canale. Alle 12 in punto è arrivata l'allerta sui cellulari. Sta andando abbastanza bene, io e il mio collega abbiamo ricevuto il segnale dell'ET Alert e quindi aspettiamo i prossimi minuti per vedere come prosegue. Abbiamo avuto il 60% di rigestione, aspettiamo gli ultimi minuti per vedere se arriverà anche a me la comunicazione. Pensa ci sia stato qualche disguido, in realtà l'esercitazione serve proprio per collaudare il sistema? Più che altro è la copertura delle celle telefoniche se tutti gli operatori sono coinvolti nell'allerta. L'esercitazione, solo per posti di comando, nel senso che non ha visto l'impiego di mezzi, ha abbracciato un territorio piuttosto ampio in cui nei comuni limitrofi a quelli di Massignano e Campofilone sono state dislocate delle cosiddette sentinelle per monitorare l'andamento dell'allerta e poter fare poi un report dell'esercitazione che permetterà di mettere appunto al meglio questo nuovo sistema di protezione della popolazione in caso di calamità che si tratti di terremoti, maremoti, alluvioni, fughe radioattive, potenziali crolli di dighe come in questa situazione. Sono una delle dieci persone a cui abbiamo dato il compito di sorvegliare e tenersi pronti a rispondere all'invio e all'arrivo del messaggio di allerta. Lei personalmente lo ha ricevuto? Personalmente io purtroppo non l'ho ricevuto e neanche le persone che erano qui vicine a me hanno ricevuto il messaggio. Molto importante è la compilazione del form sul sito web indicato nell'SMS di allerta. A seguito del messaggio ricevuto o non ricevuto è nostro compito mandare un report dell'ora in cui abbiamo fatto il rilievo, qualora fosse pervenuto, esatta ubicazione in cui siamo collocati e al tempo stesso per ulteriore verifica per vedere se eventualmente ci sono delle incongruenze tra il messaggio o tra il mezzo con cui si riceve lo stesso messaggio e dire qual è il gestore telefonico e anche il tipo di apparecchio che viene utilizzato per ricevere il messaggio. Una volta inviato questo abbiamo diciamo tra virgolette finito al tempo oggi il compito di Sentinella. Grazie. Grazie.